Il segreto per gestire una cooperativa di successo è riuscire ad ottenere il massimo della qualità con tanti soci, quindi riuscire a valorizzare le ue pagandole il giusto valore rispetto alla qualità che si riesce ad ottenere. Quindi noi abbiamo tanti piccoli produttori che fanno una qualità elevatissima e noi li seguiamo direttamente e il vantaggio è che riusciamo a ottimizzare la trasformazione del vino e la commercializzazione stando tutti insieme. Grazie a tutti.